Ancora segnali di debolezza dal mercato del lavoro nel 2013. Secondo l'Istat c'è un rilevante incremento del tasso di disoccupazione all'11,9%, un aumento di ben 1,2 punti percentuali rispetto al 2012. Sempre secondo l'Istituto di ricerca, nel 2014 il tasso di disoccupazione continuerebbe a crescere fino a raggiungere il 12,3%. Effetto di questo incremento di disoccupazione sarà ovviamente una riduzione della spesa da parte delle famiglie italiane intorno all'1,6%. Sulla base delle stime fatte, nel 2014 il recupero dell'attività economica, sollecitato principalmente dalla domanda interna, porterebbe ad una moderata crescita, circa lo 0,7%, aggiungendo che in particolare l'immissione di liquidità nel sistema economico potrebbe sostenere consumi e investimenti privati, contribuendo a migliorare le aspettative di famiglie e imprese sulle loro condizioni economiche.